Ciao ragazzi, sono Stefano Tonut e volevo salutarvi dandovi il benvenuto all'Easy Basket in classe. Ormai siete grandicelli e potete unire al solito divertimento un pizzico di impegno in più. Solo allenandomi bene e ascoltando sempre quello che vi dice il vostro insegnante, potete cogliere la vera magia di questo sport. Mi raccomando, continuate a giocare e innamoratevi dell'Easy Basket.